Le richieste sollevate dai residenti dell'Edimar nei confronti del Comune per intervenire su diverse situazioni del quartiere che necessitano di sistemazioni e miglioramenti hanno trovato una prima risposta pochi giorni fa. A seguito di un incontro con alcuni rappresentanti dell'amministrazione sono stati infatti programmati i primi interventi che riguardano le asfaltature di alcune strade e il rifacimento di un marciapiede malandato e pericoloso. Due o tre giorni fa abbiamo avuto un incontro con i responsabili dell'amministrazione comunale tra cui anche l'assessore Berloni e devo dire che sono molto soddisfatta dei nostri risultati. Fin da subito, prima del 31-12, ci hanno praticamente promesso che ci sarà un primo intervento per quanto riguarda le asfaltature, gli asfalti che riguardano due vie. Via delle Rondini, una parte di via delle Rondini chiaramente non tutta, però è una parte molto degradata che praticamente si trova in alto verso l'ex-bullying e anche l'asfaltatura sia dell'entrata che dell'uscita di via del Peti Rosso. Questo è già un risultato molto importante perché ci hanno promesso assolutamente che entro il 31-12 questa asfaltatura verrà fatta. Poi ci hanno anche promesso, questo però in primavera anche per una questione tecnica, di ricostruire tutto l'intero marciapiede che percorre via della Capinera. Noi abbiamo insistito perché chiaramente non è solo questo il marciapiede da rifare. All'Edimar quasi tutti i marciapiedi sono molto vecchi, sono da ricostruire, però loro ci hanno promesso che pian piano, praticamente da qui in avanti, tutte queste nostre richieste verranno messe in programmazione. Questi dunque i primi progetti calendarizzati, ma a residenti e consiglieri di quartiere è stato promesso che il Comune si attiverà con diversi interventi non solo sul comparto viabilità. Le priorità sono tante e tra questi c'è anche il verde, perché l'Edimar è il cuore verde, diciamo, nel quartiere verde della provincia di Pesaro, di Pesaro, della città di Pesaro. Quindi abbiamo chiesto degli interventi straordinari e quindi hanno promesso almeno una volta sicuramente, se non due, perché è necessario fare questi interventi di potature dei grandi alberi, che sono anche pericolosi. Poi abbiamo un'altra esigenza di risistemare il palco giochi, perché ci sono i giochi rovinati, obsoleti e lo stanno già facendo questo, perché io ho già notato che hanno iniziato a fare queste opere di ripristino. E quindi anche questo verrà fatto. E poi abbiamo le isole ecologiche che abbiamo richiesto e qui il portavoce del sindaco, Franco Arceci, si è speso lui personalmente, il quale è anche convenuto appunto dicendo che effettivamente l'Edimar ha bisogno di questi interventi. Tra i progetti destinati all'Edimar c'è anche quello di un nuovo sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza dell'area. L'intervento prevede l'installazione di una telecamera su ognuna delle tre vie d'accesso al quartiere. Per l'acquisto dei sistemi di sorveglianza è previsto un cofinanziamento tra quartiere e comune. Installazione e manutenzione saranno invece a carico dell'ente pubblico. Un progetto tra l'altro già avviato, è stato poi sospeso, però a budget sicuramente, almeno così ci hanno promesso, che metteranno dei soldi a preventivo. Probabilmente anche noi abitanti contribuiremo per realizzare questo progetto, che dovrebbe essere poi un progetto pilota che poi potrà essere preso d'esempio anche per gli altri quartieri.